uccisi come boss, probabilmente da debitori. Ora sembra chiara anche la dinamica del duplice omicidio di Francesco Tafuro e Domenico Liguori, titolari di un'agenzia intralotta a Somma Vesuviana. Freddati da 13 colpi di arma da fuoco lo scorso 10 febbraio, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico Altieri, Eugenio Datri, Nicola Zuccaro, rispettivamente 32, 33 e 37 anni. Sono indagati per concorso nel duplice omicidio premeditato. Il fermo era arrivato pochi giorni fa dopo il lavoro di indagine svolto dai carabinieri della compagnia di Nola. Dalle immagini reperite dai militari dell'arma è stato possibile chiarire che cosa successe quella notte. Si vede Altieri che arriva a Somma Vesuviana presso l'agenzia intralotta con uno scooter, parla con Tafuro e fissa l'appuntamento con Datri e Zuccaro. Lungo il tragitto Altieri a bordo dello scooter fa da battistrada all'auto delle due vittime. Al passaggio da un incrocio si nota l'auto dei due presunti killer Datri e Zuccaro accodarsi. In una stradina buia di campagna arrivano le due auto e lo scooter. Grazie alla telecamera di un sistema di videosorveglianza appena le auto spengono i fari si vede chiaramente il bagliore degli spari. Secondo gli investigatori il movente del duplice omicidio sarebbe riconducibile a un forte debito di gioco, contratto da Datri nei confronti di Tafuro e Liguori.